Presentata la 24esima edizione della Festa della Ceramica 9, la seconda in tempo di Covid. L'anno scorso è stato dato un segnale importante di presenza. Adesso la parola d'ordine che avvolgerà tutte le iniziative novesi in questo 2021 è gentilezza. Lanciamo oggi il tema della gentilezza, che è un tema che ci vuole ispirare non solo per quei due giorni di cultura, arte, economia, di vita in piazza di 9, ma che ci vuole ispirare durante tutto il 2021 perché la gentilezza può diventare il fil rouge che ricompone i pezzi di un tessuto sociale che è messo a dura prova dal Covid. Un impegno dunque spalmato su tutto l'anno che richiederà la partecipazione attiva delle varie associazioni. Proponete degli eventi che siano virtuali, che siano in presenza quando si potrà, che, ispirati al tema della gentilezza, ci aiutino a ritornare, a ricucire rapporti. Abbiamo voglia che la cultura ci accompagni, e questa è un'anteprima perché c'è già un progetto in cantiere, ma ci accompagni a ricomporre il nostro tessuto. Grazie. Grazie. Grazie.